Ecco, Marisa, questo è il tuo cane, questo è Shangho, guarda il tuo cane, Marisa, questo sarà qualcosa che ti riporti a casa. Pronto? Buongiorno, sì, va benissimo, a dopo allora, sì, grazie di vederci. Shangho, questo è Piero ovviamente, Shangho, 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 allora è Bea, la portatrice del canguro, Shangho, mannaggia a te, guarda, questo è Shangho, Marisa, te lo sei visto?